An Agrigento in Via Atenea all'interno del negozio per l'infanzia Piccole Volpi è stato inaugurato un centro di assistenza per le madri in attesa. L'iniziativa è di un gruppo di giovani imprenditrici che offrono gratuitamente un servizio attento all'ascolto delle donne in attesa per seguirne i progressi dal concepimento alla nascita allo svezzamento dei loro piccoli. Si tratta di una novità non solo per Agrigento ma per tutta la provincia. Sullo slogan maternità informata e consapevole ci si avvarrà della consulenza di un team di ostetriche, educatrici per i natali ed esperti consulenti che hanno già offerto la loro disponibilità. Le attività previste comprendono momenti di incontro e condivisione, dal caffè delle mamme alle cene con i bambini, alla semplice chiacchierata per affrontare insieme le difficoltà. Inoltre il centro Piccole Volpi offrirà quotidianamente, sempre a titolo gratuito, un servizio di pit stop dove le mamme potranno cambiare, allattare e coccolare i propri bambini in un locale particolarmente familiare ed accogliente.